benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di fuori dal suo appartamento in centro a milano belle rodriguez si è sbarazzata di alcuni oggetti tra questi un enorme quadro che la ritrae con l'ex stefano de martino come mostra uno scatto del settimanale oggi il quadro è appoggiato sul marciapiede come a voler indicare qualcosa di cui liberarsi anche se il settimanale lascia il dubbio non sia effettivamente così trasloco in vista oppure oggetti pronti per l'amsa la società che a milano raccoglie rifiuti potrebbe essere che belle non voglia eliminare ogni elemento che le ricorda de martino così da iniziare un nuovo capitolo con il fidanzato angelo galvano oppure potrebbe solo volerla spostare per conservarla che ne pensate riguardo scrivetemelo giù nei commenti grazie 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 grazie